Ben trovati amici, eccoci, l'informazione di TeleIblea, non dimenticate che dal 2 o 3 di maggio l'informazione di TeleIblea sarà sul canale 178, perché è così, abbiamo cambiato, sapete che molte televisioni, anzi tutte le televisioni cambieranno il loro numero, a noi è toccato questo, purtroppo non si può fare di meglio, però vedrete 178 TeleIblea e quindi vi renderete conto che siamo sempre noi, tra l'altro stiamo cercando anche di mettere delle collaborazioni, fare qualcosa in più proprio per avere un palenzesto un po' più differenziato, visto che arriveremo da Grigento a Trapena, a Caltanissetta, eccetera, eccetera. Quindi TeleIblea canale 178 dai primi di maggio, ora siamo ancora sul 110. Ieri dicevamo questa storia della festa del Gioia a Scicli e devo dire che la spinta emozionale è stata fortissima, tanto è vero che le pressioni che sono state fatte da tutti quelli del posto sono riusciti ad ottenere il risultato che in verità tutti aspettavano. Quindi questa festa che ormai erano due anni che non si faceva, ritornerà al massimo del suo splendore. C'è stato un incontro a Scicli, c'è arrivato un comunicato stampa proprio intorno alle 19.30, si sono riuniti, ecco vedete tutta la giunta, si sono incontrati e quindi il 17 aprile, giorno di Pasqua, il Cristo risorto uscirà in processione dal santuario di Santa Maria la Nova. E poi, come al solito, alle 12 uscirà in processione che saranno iscritti in una lista precedentemente consegnata. Ecco, queste sono le questioni legate alla sicurezza. Praticamente i portatori sono inseriti in una lista e questa lista è stata precedentemente consegnata alla parrocchia, i portatori saranno sottoposti nel giorno precedente alla festa a tampone, alla farmacia Cartia che ha dato la disponibilità, effetto era i tamponi. Poi è chiaro, in chiesa i portatori saranno sottoposti a controllo dell'esito del tampone, insomma è chiaro, quando si effettua, ecco rivediamo le immagini della festa, quando si effettua una manifestazione del genere, guardate, li abbiamo già fatto vedere negli altri giorni, quanta gente, quale distanziamento ci può essere, assolutamente niente, anzi siamo proprio nel momento del massimo sforzo, quando esce fuori tutta l'aria e se uno c'è qualche covindino, è chiaro che anche quello esce. E allora è una responsabilità molto forte che si sono presi quelli della Giunta, ma c'era una forte richiesta da parte della città. Nelle altre città più o meno succede questo, le manifestazioni si faranno, però devo dire che questa è particolarmente vicina, la gente è particolarmente vicina, non che a Modica non sia così, ma qua c'è proprio il movimento, la corsa, l'affanno, quindi il respiro pesante che potrebbe in qualche modo, certo, aiutare i contagi. Però la strada uscirà in processione, va bene, non è fissato un oreo di rientro, sempre così. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che sono state stabilite da questa determinazione che poi verrà spiegata martedì 12, sempre nell'Aula Consigliere del Comune, l'uomo vivo uscirà in processione, come sempre ha fatto. E ci sono anche i comunicati, per esempio Razio Ragusa è contento, ne abbiamo pubblicato questa notizia su Reteblea perché chiaramente la persona di Scicli tiene molto alla sua festa come noi teniamo a San Giorgio o a San Giovanni, quindi è chiaro che è una manifestazione molto sentita. Poi vedete queste iniziative hanno un riscontro economico molto importante perché da due anni è vero che sta ripigliando il modo di viaggiare, poi ci sono anche queste notizie che riguardano gli aerei, ma ora ne parleremo. Però è anche vero che c'è una gran voglia di uscire, una gran voglia di muoversi, almeno a distanze non esagerate e accettabili. Quindi la Sicilia che è così grande, e guardate io sono pronto a scommettere che non è che noi siamo andati, che so, 60-70 volte nella nostra vita a Trapali, no? 60-70, 100 volte a Catania certamente, ma 60-70 volte a Trapali o a Marzala no. Ecco perché la stessa cosa accade da loro. Chi è che vede qua a Ragusa tante volte? Allora questi appuntamenti di Pasqua, di manifestazioni di un certo tipo, servono a dare una mano al PIL perché il famoso, il cosiddetto turismo di prossimità si muove. E vi devo dire che poi il turismo di prossimità è un turismo che rende, perché? Perché vedete, chi si muove per due, tre, quattro giorni, alla fine rispende i soldi, magari uno resta dieci giorni, se mi deve fare tutti i conti, ma chi esce per tre giorni, parte da Trapali e viene a Ragusa? Ma è chiaro che poi si compra la cioccolata, il caciocavallo, il ragusano, perché se mi sente Enzo Cavallo che dico caciocavallo, si arrabbia, il ragusano, tutte queste cose, è chiaro che uno se ne compra, gira, guarda la manifestazione e quindi è quel movimento economico. Poi siamo ad aprile, abbiamo avuto tempo brutto, insomma io credo che dal 17 al 1 di maggio, anche i primi di maggio ci sarà un bel po' di movimento, quindi senza dubbio potrebbe essere una spinta in più e avere le manifestazioni aiuta, pensate, dice vado a Scicli ma non c'è nulla, insomma è chiaro che non avrebbe aiutato. Detto questo vi faccio vedere queste news nazionali che parlano proprio di questa crescita del settore aereo nonostante tutto quello che sta accadendo. Vediamo.